Nella mattinata di ieri a Bari la polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale in un terreno incolto sulla strada statalecento tra Mungivacca e Trigiano. I poliziotti della squadra mobile di Bari, a seguito degli ultimi fatti di sangue avvenuti nel capoluogo durante una curata perquisizione, durata diverse ore e svolta anche con l'ausilio di un escavatore a circa un metro di profondità, è stato rinvenuto un bidone di plastica con all'interno sei armi da fuoco, complete di caricatori ed in perfetto stato di conservazione e circa 100 cartucce di vario calibro. Si tratta di una pistola mitragliatrice Scorpion di fabbricazione cecoslovacca con caricatore a banana da 20 cartucce, una pistola semiautomatica Conan, una pistola semiautomatica di fabbricazione russa, una pistola semiautomatica di fabbricazione ignota e due pistole semiautomatiche di fabbricazione spagnola. Serrate le indagini degli investigatori connesse alle armi, sequestrate nell'ambito della criminalità organizzata barese.